18 chili persi. Il ritorno di Edoardo Stoppa dopo l'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi 2024 si è conclusa, con Aras Senol, l'attore di Terra Amara, che ha trionfato. Insieme agli altri finalisti, Aras è già tornato a casa. Ma che fine ha fatto Edoardo Stoppa, che si è classificato sorprendentemente terzo nonostante fosse considerato il superfavorito fin dall'inizio? Anche lui è rimasto deluso, come ha ammesso in diretta subito dopo il verdetto, esprimendo amarezza per come è terminata la sua avventura in Honduras. Non me lo aspettavo, ma devo accettarlo, ha dichiarato durante la finale l'ex inviato di Striscia la notizia, dopo aver appreso della decisione del pubblico di premiare Aras. Tra le lacrime ha aggiunto, ho dato tutto me stesso, mi sono impegnato al massimo nelle prove con concorrenti di 30 anni più giovani di me, ma soprattutto ho mostrato come sono nella vita quotidiana e nel lavoro, insieme alla mia famiglia. Diversi giorni dopo la finale, Edoardo Stoppa ha mantenuto un profilo basso, a differenza dei suoi compagni d'avventura. Tuttavia, è recentemente tornato attivo sui social, spiegando di aver voluto dedicare tempo prezioso alla sua famiglia e ai suoi figli, per recuperare il tempo perso durante il reality di Canale 5. Sono tornato, ho fatto qualche giorno di silenzio social perché volevo godermi la mia famiglia. Stiamo tornando alla normalità, ha detto in un video. Avevo bisogno di dedicarmi completamente alla mia famiglia, che mi ha coccolato. È stato veramente bello, abbiamo passato un bel weekend. Dei 18 chili persi, ne ho già recuperati 7 e mi impegnerò a recuperare il resto nei prossimi giorni. Ora è tempo di tornare alla normalità. Sono super felice, vi aggiornerò su tutto. Insomma, Edoardo Stoppa ha preferito mettere al primo posto la famiglia e il riposo prima di tornare alla vita pubblica e ai ringraziamenti ai fan. Questa scelta di prendersi una pausa è stata molto apprezzata dai suoi sostenitori, che lo hanno riempito di messaggi di affetto e comprensione. Aras Senol, dopo la vittoria, ha condiviso sui suoi social network la gioia di questo traguardo, ringraziando calorosamente tutti i suoi fan per il supporto. L'attore ha anche parlato dell'importanza di questa esperienza, definendola una delle sfide più grandi e gratificanti della sua vita.